Un tutorial per docenti per poter registrare l'ora di ricevimento. Partiamo da questa videata ed entriamo non da registro elettronico ma da scuola NEX. Come indicato nella freccia, apparirà questa pagina, selezionare comunicazioni e comparirà quest'altra schermata e selezionare ricevimento docenti, come si può ben evidenziare in questa pagina. Comparirà questa schermata e cliccare sul più. Dopo aver fatto questo, adesso controlliamo bene questa finestra. Bisogna indicare il tipo di ricevimento periodico. Giorno della settimana, per esempio il martedì, ognuno di noi indicherà l'ora, la giornata di ricevimento. Il periodo, diciamo, dal primo dicembre fino alla fine dell'anno. Indichiamo l'ora di ricevimento dalle, esempio, 10 e 15 alle ore 11 e 15. Clicchiamo Genera una disponibilità con massimo 6 colloqui prenotabili di 10 minuti ciascuno. Prenotazione è consentita a partire dalle ore 8 e da 5 a un giorno prima del giorno stabilito. Il luogo di ricevimento sarà online ed è per questo che dobbiamo indicare anche il nostro link di Google Meet. Volendo possiamo anche indicare la nostra e-mail, spuntare, mostra e-mail alla famiglia, attivo, sì. Dopo aver fatto questo, ovviamente, andiamo a conferma. Grazie a tutti.